è notizia di oggi che per la prima volta la Commissione Europea ha formulato un'ipotesi di risoluzione del problema degli immigrati sulle quote, cioè 40.000 migranti da dividersi in tutti i paesi e siccome questo viene dopo il Consiglio Europeo allora è un successo del governo questo. L'Unione Europea è un'associazione delinquere dal mio punto di vista. Non l'Europa, l'Europa è nata e può tornare a essere un grande sogno che aiuta la gente a conoscersi, a contaminarsi e a stare meglio. La burocrazia che hanno costruito su questa Europa è delinquenziale perché ha l'obiettivo di azzerare tutto dal mio punto di vista, vuole arrivare all'uomo unico, al pensiero unico, alla moneta unica, al cibo unico, al teatro unico, alla canzone unica. E poi ci arriviamo, però sui migranti ha una cosa. E la geniale loro soluzione è che 40.000 li mettiamo nella roulette dei 29 stati, ne mandiamo 1.500 in Lettonia, ne mandiamo 1.718 in Polonia. E l'alternativa qual era? L'alternativa di un'Europa seria. Tu sei presidente del Consiglio, la prima cosa che fai è, tu sei presidente del Consiglio. Io non ne faccio più. Succede quello che succede a Lampedusa, il giorno dopo ti svegli e? Due cose, due cose. Uno, chiedo alla Marina Militare e alla Guardia Costiera di soccorrere tutti gli esseri umani, ma di non portarne neanche uno su suolo italiano e di difendere i confini. Dove li indirizzeresti? L'Australia a Docet. Li riporto dal porto da dove sono partiti. Però, scusami se ti interrompo Matteo, noi qui abbiamo il problema della Libia che oggi per esempio ha cannoneggiato un mercantile turco, poi vedremo se veramente... Cioè la Libia è profondamente instabile, perché seguendo Sarkozy abbiamo destabilizzato un regime sanguinario che c'era. Quindi molti partono da lì. Riportarli lì senza un accordo con la Libia diventa impossibile. Se i confini hanno un senso per mare, per terra o per monte, i confini ci sono e vanno difesi. La legge del mare è la morale mia e di qualunque altro essere umano prevede che si salvino le vite, che sono la priorità. Però una volta salvata le vite, Malta lo insegna, l'Australia lo insegna, la Spagna lo insegna. Si riportano queste persone da dove sono partite. Non possono andare in Libia? Tunisia, Marocco, Turchia... Quindi accordi con quei paesi? Assolutamente sì.